Ciao a tutti, sono qui con il nuovo album di Chong Ha, Coerenzia, che tra l'altro la prima volta che avevo letto il nome avevo letto Quercia, cioè io sto andando fuori di testa, vi giuro. Questo è il primo studio album e è gigantesco, mi aspettavo una roba molto 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 più piccola invece enorme. Vabbè, comunque adesso ve lo faccio vedere, tra l'altro non so neanche se si dice coerenzia, si dice comunque. Apriamo, c'è davvero enorme, oddio, aspettate eh, inizio a tirare fuori tutto quello che c'è in questa scatola. La scatola è fatta proprio di cartone, semplicissimo. Oh, qui c'è scritto qualcosa. Ok, e inizio a farvi vedere il photobook. Aspettate che, credo, ci siano le photocard qui dentro, esatto. Tratto, non so neanche quante ce ne sono, mi sa un bel po' perché anche l'album precedente aveva un sacco di photocard. Infatti mi sa anche questo. Ok, faccio vedere il photobook. Che bella, che bella. Io amo, c'è un po'. Oh. E la canzone mi piace un sacco, la title. Oh. Io mi sono innamorata di lei a produce. Cioè, affinata, quando ballava, mamma mia. Mamma mia, la canzone, mi rimarrà sempre in testa il video dove lei balla la canzone di Beyoncé. Se, proprio, mi ho fissata. L'avrò visto 6.000 volte quel video lì. Cioè, l'è partita a fare album così, cioè, a fare album così grandi a questi. giganteschi. E' enorme questo, enorme. Io amo, poi, questo formato così grande. la mia libreria un po'. Un po' meno, però io lo amo. Non da che trucco. mamma mia. Mamma che bella! Chi vele, se fuggi il primo piano le addoro! Oh! Qua cambia il tipo di materiale, sono ruvide queste pagine, credi prima erano lucide. Tra l'altro sono molto più spesse queste. Alla prossima! Che belle queste! Queste sono da Denver. Qui. Milano! Ci sono le tracce, crediti. Ed è finito, bellissimo cavolo! Poi abbiamo questo, che era all'interno. Poi abbiamo il cd. Che stra semplice. Abbiamo una foto a quattro. Bellissima. E poi le photogar che sono una marea! Guardate qui! Il retro è uguale per tutti, credo. Cambia il messaggio, forse no. Comunque. Allora. Abbiamo questa. 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 E l'ultima. Oh, che bella! Questa. E per questo unboxing è tutto. Vi ho fatto vedere tutto, sì. Bene, noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao!